Solo poche settimane finalmente ritorna l'ora legale che porta con sé l'arrivo della primavera e giornate più lunghe. Il cambio dell'ora verrà alle ore 2 nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, quando occorrerà spostare le lancette dell'orologio avanti di un'ora. Si dormirà così un'ora in meno. Ciò avrà effetti anche sull'organismo delle persone, provocando malesseri come disturbi del sonno e dell'umore, difficoltà di concentrazione e stress, ma in compenso si avranno giornate con più luce. Ed è proprio questo il motivo del cambio d'ora, ridurre il consumo di elettricità per risparmiare sfruttando la luce del sole. Il cambio orario avviene in orario notturno, proprio per arrecare meno disagi possibili sia alle persone che ai trasporti. Per quanto riguarda invece dispositivi come smartphone, pc e tablet, il cambio d'ora avverrà automaticamente. Basterà avere una connessione internet. In ogni caso, pochi giorni e la situazione si regolarizzerà, potendo così godere appieno dei vantaggi dell'orario estivo. L'ora legale terminerà poi il prossimo 28 ottobre, quando darà di nuovo il cambio all'ora solare. Va ricordato inoltre che l'ora legale ha generato anche discussioni e diatribe negli ultimi anni. Un'eventuale abolizione del cambio orario, mantenendo quindi un unico orario, è finita nel 2018 perfino sul tavolo della Commissione europea, che ha lanciato una consultazione pubblica, ottenendo 4,6 milioni di risposte. Il Parlamento europeo ha poi deciso che la decisione definitiva verrà presa fra due anni, ovvero nel 2021. La Commissione Trasporti ha di fatto bocciato la proposta che voleva abolire il fuso orario già quest'anno. Dunque, chi nel 2021 deciderà di rimanere all'ora solare o legale, poi non potrà tornare più indietro.